Era stato inaugurato il 7 agosto 2019 il nuovo ponte ciclo pedonale che collega l'Arzilla all'Ido di Fano. L'Opera, lunga 40 metri per 2,50 metri di larghezza, aveva sostituito la vecchia struttura in cemento armato realizzata negli anni 80. Ormai fatiscente e in avanzato stato di degrado strutturale, era stata sostituita da un moderno impalcato reticolare finanziato dalla Regione Marche con 136.000 euro. Regione che poi aveva trasferito la proprietà del manufatto al comune di Fano e a due anni di distanza verrà ultimata anche la pavimentazione Lato Pesaro dove fino ad oggi le persone con difficoltà a deambulare e mamme con perseggini hanno incontrato problemi a procedere su sabbia e terra. Naturalmente abbiamo fatto un sopralluogo con l'assessore Lucarelli e con tutti gli operatori e i bagnini anche per capire al meglio l'ordine dei lavori nel creare il meno disagio possibile. Ci siamo dati appuntamento al prossimo mercoledì che sarà la fine di questo primo straccio di lavori. Straccio di lavori che significa una manutenzione straordinaria dell'esistente quindi della pavimentazione che va dal ponticello alla pista ciclabile che è adiacente ai loro stabilimenti. Successivamente come detto ci rincontreremo perché naturalmente i bagnini che sono stati molto comprensivi e ringraziamo perché ci accorgiamo di essere all'interno di una stagione ci hanno chiesto di rivederci per mitigare al meglio quello che sono la seconda fase dei lavori. Seconda fase dei lavori che prevederà il rifacimento di una parte sottostante e l'eventuale chiusura di due o tre giorni che valuteremo insieme.